Lo aveva detto il presidente nazionale Stoppani e sulla stessa linea è anche il vicepresidente FIPE di Cremona Emiliano Bruno. Gli esercenti cremonesi sono favorevoli al Super Green Pass. Il lockdown con la chiusura delle attività sarebbe ciò che di peggio potrebbe capitare adesso. Le nostre aziende che stanno uscendo adesso a fatica, perché sicuramente non c'è stata una ripresa totale di quello che era il lavoro precedente al Covid, stanno uscendo a fatica da questo momento e un'ulteriore chiusura, ulteriore limitazione a quello che è il normale svolgimento delle nostre attività sarebbe deleterio. Non ci si può permettere ulteriori chiusure. Le attività hanno bisogno di continuità per uscire dall'impasse. Al governo e alle amministrazioni locali i pubblici esercizi chiedono vicinanza e misura a favore delle imprese, facilitando ad esempio l'utilizzo di plateatici. Quindi mantenendo non solo fino alla fine dell'anno ma anche ulteriormente il discorso di possibilità di ampliamento all'esterno, che durante il periodo estivo e sicuramente anche in questo primo inizio di inverno sono state utili per cercare di limitare quello che era il discorso di un contagio, perché favorivano un distanziamento sicuramente più ampio.